Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel terzo episodio della carriera con lo Sheffield su FIFA 21. Grazie di cuore per il supporto che state dando finora alla serie, ancora non è successo nulla. Già in questo episodio aspettatevi un paio di botti importanti. Vi ricordo anche, come sempre, di passare da OneFootball, il link è sempre nella descrizione. Mi raccomando, migliore app per quanto riguarda il mondo del calcio e non solo. Ci sono anche un sacco di cose su FIFA, eccetera. Quindi se volete scaricatela per iOS Android, è totalmente gratis. E vi ricordo anche di arrivare per questo video a 3000 mi piace, 3000 mi piace, vi porto subito al prossimo episodio. Tutta la carriera la sto portando in live sulla piattaforma Viola. Il link è sempre nella descrizione, mi raccomando andate a seguirmi anche lì. Detto ciò, io non vi rubo altro tempo, godetevi questo video, buona visione. Quindi a questo punto ragazzi, adesso avremo la prossima partita e speriamo che ci arrivano un paio di offerte. Però io poi andrò subito, appena ci arrivano i resoconti, ad acquistare un giocatore, assolutamente. Adesso abbiamo il Wolfsburg, io prima della partita con il Wolfsburg mi piacerebbe comprare un giocatore, perché stiamo un po' con le pezze al coru, sinceramente. Allora, qua non abbiamo nessun resoconto, non sappiamo neanche i valori dei giocatori, quindi non possiamo fare nulla. Abbiamo qualche clausola recistora, però ancora non possiamo fare niente. Quindi probabilmente sta partita la andremo a simulare ancora con la squadra messa così e sinceramente non la vedo benissimo. Per questa partita ragazzi facciamo la simulazione veloce, perché sennò perdiamo troppo tempo e vediamo un po' come va a finire. 2-1 vinciamo contro il Wolfsburg con gol di McBurney e l'altro chi l'ha fatto? Musse, Musse e McBurney, la nostra coppia d'attacco ci porta la prima vittoria di questa coppa. Quindi ancora abbiamo la possibilità di riuscire a passare questi gironi. Adesso siamo a pari merito con loro, con l'ultima partita contro il Feyenoord che è già ultimo ed è già fuori. Molto molto bene, ora ci avviciniamo a quella partita, abbiamo l'allenamento, ma arrivano anche delle offerte. Arrivano dei resoconti per dei giocatori, Robinson venduto, molto bene. E arriva un'offerta per Harry Boyes che accetta assolutamente, giocatore scandaloso. Ok, 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 molto bene. Allora adesso andiamo qua a simulare l'esercizio. Tanto uno l'abbiamo già giocato. Prendono tutti delle D, no, sta cosa dell'allenamento devo capirla ragazzi, perché abbiamo preso delle D. Devo capirla sta cosa. Vabbò, adesso abbiamo la partita contro il Feyenoord. Simulazione veloce. Contro il Feyenoord, vediamo un po' cosa facciamo. Se vinciamo, 3 a 1 vinciamo. Ancora McBurnie, McGoldrick e McGoldrick. Doppietta di McGoldrick e Goldie, McGurnie con Bergwice per loro. Passiamo quindi il giro, andiamo a 6 punti. E adesso, sì, passiamo perché il Vorsburg ha pareggiato. E quindi siamo in semifinale contro l'Offenheim. Ci arrivano anche dei soldi che saranno molto importanti. Arriva un milione e tre. Però sicuramente adesso abbiamo una buona possibilità. Avremo l'Offenheim che però è una squadra abbastanza, abbastanza forte. Quindi andiamo avanti. Boies ha rifiutato, grazie mille. E arriva un'offerta da Southampton per McGoldrick. Che è in vendita. E assolutamente dobbiamo cederlo. Quindi Southampton, se ci dai la cifra che vogliamo, te lo diamo volentieri, volentieri. Io chiederei... mi bastano anche 4 milioni e mezzo, sinceramente. 4 milioni e mezzo me li faccio bastare. Tanto a 32 anni comincerà a decrescere sempre di più. E accettano 4 milioni e mezzo. Molto, molto, molto bene. Ci saluterà quindi, se va tutto bene, David McGoldrick andrà al Southampton. Molto bene, molto bene. Adesso arrivano altri resoconti. Arriva un'altra offerta per John Flick da 13 milioni. Attenzione, dal Valencia, dal Valencia. Questa è una bella offerta. Lo voglio vendere, ragazzi. Quindi 17 milioni come prima contro offerta. Vediamo un po' che ci dicono. 14 milioni. Ok. Andiamo a 16. Vediamo 16 milioni. Accettano 16 milioni quelli del Valencia per John Flick. Quindi, se va tutto bene, ci saluterà anche John Flick che andrà via per 16 milioni che saranno fondamentali per riuscire a fare un buon mercato. Purtroppo uno dei centrocampisti dovevamo sacrificarlo e John Flick è uno di questi. Ha comunque 28 anni e ci saluterà. Però comunque i soldi sono buoni. Quindi va benissimo, va benissimo. Adesso andiamo a simulare questa partita contro l'Offenheim. Simulazione veloce. Vediamo un po' cosa succede. Vinciamo 1-0. Gol di Musée contro l'Offenheim. Siamo in finale. Incredibile. Grande Musée sta segnando tanto. Finale con il Getafe. Ok, 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 ok. Siamo in finale. Molto, molto bene. Vediamo anche le email. Ci arrivano altri resoconti. Ci arrivano 3 milioni in più. Molto, molto bene. Meggoldrick venduto. Ci arrivano quindi anche 3 milioni e 100 per il mercato. Ok, allora per quanto riguarda la cosa degli allenamenti. Mi avete consigliato di giocarne uno. Come avete visto abbiamo preso un A. E adesso teoricamente simulando gli altri allenamenti dovrebbero andare bene. Però questa è una cosa che mi avete detto voi. Invece no, abbiamo preso un A-D comunque. Quindi non so come funziona questa cosa degli esercizi. O i giocatori che abbiamo messo sono sbagliati per gli esercizi. E c'ho il dubbio. Oppure dobbiamo prendere dei voti bassi per forza. Non lo so, non lo so. Vabbè, vabbè. Comunque. Adesso abbiamo il Getafe. Ma ci arrivano tanti resoconti. Quindi probabilmente abbiamo venduto Flick. Ci arrivano 12 milioni per il budget. Ci arrivano un sacco di resoconti. Penso tutti. Quindi possiamo già andare ad acquistare un giocatore. E vediamo anche il budget quant'è adesso. Perché dovrebbe essere bello alto. 46 milioni. Probabilmente spostandolo un po' abbiamo anche qualcosina in più. Sì, una cinquantina di milioni. Facciamo così. Finiamo questa coppa e poi ci andiamo a fare il mercato. Siamo pronti. Andiamoci a simulare anche questa ultima partita. Poi speriamo che ci arrivino i resoconti. Così cominciamo anche con il mercato in entrata vero e proprio. È arrivato come un Campadù. Ma era già da noi, tra virgolette. Quindi non l'abbiamo visto come un acquisto vero e proprio. Andiamo a fare simulazione veloce. Speriamo di vincere. Sarebbe fantastico. 2-0. Segnano Norwood e Osborne. Vinciamo la coppa estiva e ci portiamo a casa un bel budget. Soprattutto il morale sicuramente si alza con tutte queste vittorie. Tanta tanta roba. Vediamo adesso quanto ci sono arrivati come premio. 3 milioni e mezzo in più. Quindi in totale 8-9 milioni dovremmo esserci fatti che non sono affatto affatto male. Offerta per Park House. In prestito accettiamo. Adesso sul mercato abbiamo tanti soldi ma tanti acquisti da dover fare. Soprattutto nei ruoli in cui abbiamo bisogno. Quindi attacco esterno. Almeno 4 giocatori devono arrivare in quei ruoli. E devo dire che ci abbiamo un bel po' di giocatori interessanti. Finita la coppa ragazzi. Io andrei assolutamente a comprarmi un esterno. E il giocatore primo che vorrei comprare in questa carriera è Callum Hudson Odoi del Chelsea. Che si è comprato a un sacco di giocatori nella fase offensiva. E quindi Hudson Odoi dopo un po' di infortuni. Un po' di panchine. Forse di troppo. Ancora 19 anni. Potrebbe sbocciare completamente da noi. Farebbe assolutamente il titolare. Sarebbe un nostro gioiellino. Costa tra i 13 e i 20 milioni ci dicono. Un valore di 10 milioni. E io direi assolutamente di andare a provare a contattare il Chelsea. E io proverei con il prestito. Così vediamo questa nuova future. Non ce la voglio andare in prestito. Quindi niente. Non posso. Andiamo direttamente a contattare. Tanto i soldi li abbiamo. Mi sarebbe piaciuto provare il prestito. Ma non ce lo vogliono lasciare. Quindi andiamo da Lampard. Che è già tipo la seconda volta dopo Ampadu. Vediamo un attimo con Hudson Odoi cosa fare. Allora scambio giocatori. Vediamo intanto se possiamo inserire qualcuno. Anche se in realtà io andrei direttamente. Però se ci abbiamo qualche esubero da voler dare via. Potrebbe starci. No andiamo direttamente a contattare. Andiamo direttamente. E proviamo come prima offerta 10 milioni. Che è il suo valore. Vediamo un po' che ci dice il Chelsea. Ok. 12 milioni con il 3%. Contro offerta. Togliamo la clausola. Rinnegoziamo. E facciamo 11 milioni. 11 milioni per Hudson Odoi. Sarebbe una cifra buonissima. 13 milioni. Secondo me a 11 e mezzo si può chiudere. Secondo me a 11 e mezzo si può chiudere. Sarebbe un colpaccio. Molto bene. Offerta equa. Il Chelsea accetta. Lampard accetta. Ora manca solo l'accordo con il giocatore. Quindi andiamo a trattare con Callum. E sarebbe un acquisto veramente veramente top. Sarebbe un giocatore importante. Perché farebbe comunque il titolare. Ma per ora importante dovrebbe accettare. Poi 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 vediamo un attimo qua 5 anni. Assolutamente. Per l'ingaggio lui ci chiede 25 mila di stipendio. 2 mila. 240 mila di bonus ingaggio. E il bonus presenza che io come sempre andrei a rimuovere. E sinceramente io avanzerei anche questa offerta. Se è abbassato comunque l'ingaggio. Noi soldi li abbiamo. Il giocatore lo vogliamo. Lui vuole venire da noi. E quindi possiamo chiudere con questa trattativa. Arriva il primo acquisto ufficiale dopo Ampadu. Si tratta di Callum. Ozzonodoy sempre dal Chelsea. Diamo il benvenuto a questo super super talento. Che ci darà una grossa grossa mano. Giocatore veramente devastante. A parer mio ho pagato anche abbastanza poco. Anzi l'abbiamo pagato poco. Giocatore molto forte. Chiaramente giocherebbe come titolare a destra. Con la possibilità di poter rientrare anche sul colmancino. Anche se c'è solo tre piede debole. Forse è un po' una pecca. Però chiaramente questo è un giocatore che possiamo allenare. Anche per farlo diventare una punta. Volendo un trequartista con gli allenamenti di quest'anno. Quindi benvenuto ad Ozzonodoy. Gran gran bel acquisto. Ora sicuramente ci manca un altro giocatore qua sulla sinistra. Che può essere anche un giocatore destro. E spostare Ozzonodoy di qua. Così può rientrare sul destro. E sfruttare il piede destro. E poi assolutamente una punta. Questi sono i due acquisti che dobbiamo assolutamente fare il prima possibile. Però Ozzonodoy secondo me è un gran gran bel colpo. Dopo aver preso Callum Ozzonodoy vorrei provare anche a portare di nuovo allo Sheffield David Brooks. Ex primavera, ex academy dello Sheffield. Un paio di anni fa è andato al Barmout. Il Barmout adesso è sceso in championship. E quindi potrebbe essere un buon ritorno per noi. Abbiamo bisogno comunque di un esterno. Costa tanto. Vediamo se ce lo danno in prestito. No niente. Purtroppo nessuno ce lo vuole dare in prestito. Quindi raga non lo so, non lo so. Sono un po' indeciso. Andiamo a trattare. Vediamo un po' se riusciamo a mettere qualcuno dentro. Magari un giocatore con uno scambio. Vediamo un po'. Vediamo di offrire magari qualcuno... Qualche esubero che abbiamo. Anche se non saprei che offrire. Cioè gli unici che possiamo offrire sono dei difensori. Potremmo offrire Basham che vale 7 milioni. C'ha 32 anni quindi decrescerà. Offriamo Basham. Vediamo un po'. Avanza offerta. Vediamo un po' se lo vogliono. Lo vogliono. No non lo vogliono. Vogliono 17 milioni con il 20% della clausola della rivendita. Ok. Allora se volete quella clausola della rivendita. Però io voglio comunque aggiungere un giocatore. Vediamo Verrip se lo vogliono. E l'offerta per il cartellino. Io metterei 15 milioni. Che è il suo valore di mercato. Vediamo un po'. Ok. Hanno accettato. Hanno accettato. Molto bene. Forse potevo anche non mettere il portiere. Forse ho sbagliato. Però vabbè. Andiamo a trattare. Andiamo a trattare. Forse forse sto pagando un po' troppo il giocatore. Però vale comunque 15 milioni. La clausola della rivendita comunque non ci importa. Perché non penso che lo andremo a rivendere. Prende poco di ingaggio. E anche per lui giocatore importante. Comunque ci sta. Perché sarebbe un ritorno allo Sheffield. Quindi anche molto realistico. E sarebbe comunque un giocatore che ci darebbe una grossa mano. E sarebbe al livello della squadra. 5 anni di contratto per lui. Ci chiede un bel ingaggio. 24.500 con quel bonus ingaggio. Noi comunque i soldi li abbiamo. Il giocatore lo vogliamo. Quindi vediamo un po' cosa ci dirà Brooks e il suo agente. Vediamo un po'. Molto bene. Hanno accettato. Benissimo. Arriva anche David Brooks. Diciamo il terzo acquisto del nostro mercato. Pagato tanto. Pagato veramente caro. Però comunque arriva un giocatore super talentuoso. Ex Sheffield. E che ci rianforza veramente tanto la squadra. Eccolo qua. Da allenare chiaramente perché non è molto veloce. Però è un giocatore che se lo alleniamo in velocità. Può diventare veramente molto forte. Perché ha delle belle stazze. È mancino. E quindi molto probabilmente lo farò giocare a sinistra. E lo alleneremo quindi per farlo diventare sinistro. Quindi Ozzono Doi a destra. E Brooks a sinistra. Oppure potremmo anche mettere Ozzono Doi a sinistra. Brooks a destra. E giocarli con i piedi invertiti. Anche se non è un modo di giocare che prediligo. Però comunque. Adesso comunque vedremo. Abbiamo tempo di valutare tutto quanto. Brooks di qua per ore. E Ozzono Doi di qua. Molto molto bene. La squadra già l'abbiamo rafforzata a parer mio. Perché ci siamo presi due esterni. Abbiamo acquistato Ampadu. E adesso molto probabilmente dovremo comprare un centrocampista. Visto che ci manca il centrocampista. Visto che abbiamo venduto Flick. Abbiamo venduto Flick. Abbiamo venduto anche McCormack. Quindi ci siamo un po' vuote adesso a centrocampo. Quindi sì. Un centrocampista ci serve assolutamente. Un centrocampista che possa fare anche il titolare in realtà. Quindi consigliatemi dei centrocampisti. Il giocatore che mi era venuto in mente è Philips. Calvin Philips. Del Leeds. Che è molto forte. E non costa neanche tanto. Calvin Philips sarebbe un gran gran mediano. Allora. Adesso a luglio non abbiamo più niente. Poi ad agosto. Il campionato inizia l'otto. L'otto agosto. Subito con il Leeds. Quindi in realtà abbiamo poco tempo. Tre settimane e inizia il campionato. Avremo Leeds. City. Southampton. E Leicester. Quattro partite ad agosto. Quindi già da domani probabilmente iniziamo con le partite. Eh ragazzi. A questo punto con il mercato. Quello che dobbiamo fare assolutamente. Un portiere di riserva. Visto che sono andati via due portiere. Abbiamo soltanto Moore. Che farà probabilmente il terzo. Quindi dobbiamo prendere un portiere di riserva di Ramsdale. O addirittura un portiere di esperienza. Più alto di overall. Ramsdale farlo crescere. Farlo diventare poi il titolare del futuro. Dovemo valutare. Dipenderà anche dai soldi. Poi in difesa. In realtà siamo messi bene a parer mio. Se va via Basham prendiamo un altro difensore. Se no restiamo così. A livello di terzini. Se non va via nessuno. Restano questi. Anzi forse ne abbiamo anche troppi. A centrocampo deve arrivare assolutamente un titolare. E un giovane da far crescere. Sugli esterni dobbiamo ancora fare qualcosina. Dobbiamo prendere due riserve. Di Otzono, Doi e Brooks. E in attacco secondo me. Almeno una prima punta di livello. Deve arrivare. Una prima punta alta di overall. Che ci possa. Possa fare il bomber della squadra. Quindi in realtà abbiamo ancora tanto da fare. Il budget vi ricordo che è molto alto. Sono ancora. Siamo ancora a 26 milioni. Quasi 27 milioni di budget. Quindi dobbiamo assolutamente assolutamente. Gestirceli bene. Possono ancora arrivare un paio di cessioni importanti. Quindi comunque i soldi. Da qualche. In qualche modo li riusciamo a trovare. Però dobbiamo gestirci bene. Ripeto. Il budget. In questo episodio sono arrivati. Ampadu. Otzono, Doi e Brooks. Noi ci fermiamo qua a questo punto. Domani saremo come sempre. Sulla piattaforma viola. Per continuare con il mercato. E iniziare anche con il campionato. Perché manca poco. E l'8 di agosto. Ci sarà la prima giornata. Contro il Leeds. Una neopromossa. Quindi dovremo partire con il botto. E abbiamo assolutamente bisogno di. Quindi arrivare all'8 agosto. Con la squadra quasi pronta. O comunque avere la squadra titolare pronta. E poi puntellare. Durante agosto. In base anche alle sessioni che faremo. Quindi io mi fermo qua ragazzi. Grazie per aver seguito questo episodio. Mi raccomando. 3000 mi piace. E domani esce subito. Il prossimo episodio. Come sempre. Alle ore 18. Mentre domenica. Potrebbe uscire anche un po' prima l'episodio. Quindi mi raccomando. Grazie per la visione. Noi ci vediamo alla prossima. Un bacione. Iscrivetevi al canale. Mi raccomando. Passate da OneFootball. Da Eneba. E tutti i link ci sono in descrizione. Ci vediamo alla prossima. Per voi di YouTube. Un bacione. Il prossimo episodio.